Ciao ragazzi a tutti in questo nuovissimo video, buongiorno signori, oggi è il grande giorno Alle 10, 10 e mezza del mattino chiaramente, quindi tra poco andremo in live scoprendo tutto della season 5 E scioperemo il pass battaglia 5 Ragazzi grazie mille per tutti i pollicioni in su, tra poco ci andiamo Ma attenzione, intanto vi dico subito che in descrizione ho messo il link della live che ho programmato Quindi poi mi raccomando andate lì e fate magari in posta pro memoria Ragazzi vi aspetto, tutti quanti scopriremo tutto insieme in live E tra l'altro avete visto che ho messo questa immagine nella miniatura Ragazzi sull'Xbox dashboard qualche ora fa è trapelata questa immagine che è proprio della season 5 E sembra essere proprio ufficiale, ragazzi tre skin iniziali sembrano E c'è questo tizio con la maschera che abbiamo visto nel teaser ufficiale due giorni fa Di quello strano gatto misterioso, quella maschera lì E dietro ci sono questi altri due tizi, uno con gli occhiali e l'altro con un tatuaggio Molto alla, come si chiama quel film? Mad Max mi sembra, una cosa del genere Ragazzi mi raccomando, vedremo tutto quanto insieme Shopperemo, andremo a giocare e scopriremo soprattutto la mappa insieme Quindi ragazzi adesso sto registrando che sono le 8 e 20 Ci vediamo verso le 10 o le 10 e mezza Adesso vediamo, raga, dipende dalla patch note La domanda, vado in live quando esce direttamente l'update Oppure magari già prima quando escono le patch notes Ovvero tutte le novità sul sito, così le leggiamo insieme Fatemi sapere questo qua sotto nei commenti Ragazzi ci vediamo tra poco, link in descrizione Mi raccomando, andate, cliccate E raga, vi aspetto poi lì alle 10, 10 e mezza circa Link qua sotto dal live, ciao!